Dov'è il Maceo? Posso entrare davvero? Oh wow, ma un po' un prosecchino Gab, io devo avere un apporto con voi Va bene raga Assolutamente Va bene, son raccomandato, let's go Io voglio un affondo con Gab Oh Let's go, raccomandazione in Ah yeah Tu pensi che io ho detto, cazzo, questo è venire a Milano Ways Sì, io ti ho scritto, non ho mai cagato giustamente Eh raga, ho visto Ma voi lavorate qua raga Sì, siamo qua, siamo il mio solito Dov'è il Maceo? No, voglio una foto con il Maceo Maceo, una foto! Maceo, una foto! Maceo, una foto! Maceo! Una foto, Maceo, per favore! Per favore! Per favore! Sei in live! Sei in live! Ma sei un cretino, dai! Vuoi una banana? No, cazzo! Cosa vuoi, Gabriele? Cosa cazzo vuoi? Una foto, posso dire? Veloce! Dai, facciamo una foto! Sei un fanboy di madre! Grande, ma se... Sei veramente... Guarda tutte le tue reaction al collegio! Ma vai a cagare, te e chi ti picchia per strada! Eh, quelli sì, oggi sono d'accordo, bravo! Bella! Ciao! 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 Ciao!